Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Grazie a tutti Funziona! 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 72 giorni di valatora signori Tortapasta Una vera abuso o comunque mi sembra intorno ai 70 euro 50 ml a 70 euro ah ma dove è staccato buonasera ragazzi ciao a tutti come tutti sapete ragazzi aspetta un attimo un attimo solo oi calmatevi un attimo chi vuole essere salutato deve spammare il ritorno hashtag il ritorno eh ah mi sento male mi sento manca all'aria ogni tanto pensava buio attacca non da instagram quando non ma ah vuoi fare un po' che è accanto no 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 io via aspetta aspetta anche lei non si preoccupa ciao grazie negli sming grazie di tre e quindici mesi grazie bella conosimo cannava ciosi per una casa mia da portare sulla focca perché la roba è mangiata vieni cannava ciò vieni cannava ciò vieni cannava ciò grazie mille sct valero grazie per i 20 mesi grazie mille ragazzi grazie mille scemo no basta me ne vado basta 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 signori oh yeah ma vado per chi la porca per chi anche lei non si per chi a pesce a pesce a pesca no no bevo solo un sorso solo un sorso un piccolo sorso è vero che qua c'è il bicchiere no questo è mio vai che dopo ti viene la teatro dove l'aspettavo che usciva dove l'aspettavo dove l'aspettavo dopo di questa sera di giuno ora cominciamo c'è il bicchiere di giuno di giuno cazzo allora a piaccia a piaccia una ricetta sotto qui di giuno come si chiamava la camera attrezzato come si chiama signor i spicci un abusamento goliardico provate cereali di sfera che sto sto bene gennaro il tuo cec ceco fuate giornali siciliano te lo ricordi ti voglio bene un bel si bel come bel napole ehi giorni piazza e merda spork basalda grandalote spiazza e merda piazza rom chiss finnicando i song chiss come stai te a posto bello mio bacino ecco il pavolo voilà maggiù meglio che questo meglio che questo veramente i chemo fanno un buff le sedie poi poi prendiamo giuseppe nel 6 gioglio allora facciamo sto pan di spagna se no la torta non la facciamo più allora per fare un pan di spagna ok allora questa qua è giusto per la protezione questa qua mi sembra adatta è a norma norma di legge allora collega un attimo una corrente si questo qua perfetto ok abbiamo collegato la presa industria 4 cala ilos gex gangna team co camion c'è gmae 3 4 2 manca vele è stato sbannato c'è molinars come stai giorgio c'ucs fecorro brici ox ocala il cubi c'è matracina come stai intrude c'è peruviano odi beck is beck ritorned bici de vallgati un abusamento colir dico aspetti anche lei appos appos ai quasi emmo darvin nunez può ricevere attenzione deviazione aerea che non ha inquadrato davvero di poco il passaggio tanto la vinciavo la vinciavo shit intercetta bene il passaggio e non era facile porta palla il pati ciao pati ciao ciao so carino immagina accendi i telegiornali solo per scoprire che diverse città turistiche sono spazzate via dalla faccia dell'acqua